Dare una risposta ai problemi abitativi del ceto medio impoveritosi, quello che non possiede requisiti per l'accesso alle case popolari, ma che non può permettersi di comprare o affittare una casa con gli attuali prezzi di mercato, che a Rimini sono alle stelle. Nella frazione di Corpolò stanno per arrivare 54 alloggi di edilizia residenziale sociale convenzionata, social housing. Canoni come questi, di cui abbiamo parlato oggi, che si aggirano dai 300 ai 380 euro mensili in abitazioni così belle e in un posto dove davvero si possa creare una comunità interessante ed attiva, va a promuovere quel welfare delle capacità che si basa anche sul fare comunità che per noi è fondamentale. In parte saranno dati in locazione a Canone e Calmierato, per intenderci circa 380 euro al mese per un bilocale, in parte venduti a prezzi convenzionati, circa un 20% più bassi di quelli del mercato. I bilocali costeranno sui 150 mila euro, i trilocali sui 330 mila euro. La prima palazzina sarà pronta già da questo anno, l'altra entro l'estate del 2019. Parliamo di una fascia media, quella che viene definita in gergo del Canone e Calmierato. Parliamo di canoni che saranno ottenuti 350 euro, 380 euro al mese per essere precisi da questo punto di vista. Parliamo di appartamenti realizzati molto bene dal punto di vista qualitativo, anche sotto il profilo energetico, quindi con la possibilità di avere anche bollette ridotte per intenderci.